ciao ciao e mi come va bene siamo ormai avanti con le nostre puntate ancora due tre mesi e poi ce ne andremo in vacanza tu hai già scelto dove andrà non dirmi in messico perché non se ne può più e dove andrai in vacanza emi australia ma una roba più un po più comoda no messico australia un po più vicino non c'è australia vai sì e va bene come mai in australia ho la famiglia lì in australia la famiglia in australia si non in galles si in galles anche ma vabbè prima il portellone non c'è caduto più niente questa ragazza